Andrea Tutto il Mondo, il corrispondente dalla Sicilia di Aska News, ha vinto quest'anno la decima edizione del premio internazionale di giornalismo Maria Grazia Cutuli, insieme all'inseia Dario, Amalia De Simone e Laura Anello. Ad Andrea Tutto il Mondo è stato riconosciuto il premio come Giovane Siciliano Emergente. Dal 2011 segue per Aska News la cronaca e la politica siciliana, con particolare attenzione al fronte dell'emergenza sbarchi, che lo ha portato a trascorrere molto tempo fra le tragedie di Lampedusa, come inviato per servizi di testo e di video. Queste immagini sono sue. La cerimonia di consegna del premio Cutuli sarà a Catania il 22 novembre, con il presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini.